Io penso che ogni attore sarà ben felice di farlo, perché poi i progetti cinematografici ce ne sono sempre meno, poi i personaggi femminili ancora di più, quindi il nostro lavoro non è soltanto un hobby ma è anche un mestiere. Eh sì, è così. C'è una piccolissima creatura che deve fare una domanda, eccola lì. Sono Rostella di Piccoli Grifoni, noi abbiamo visto il film Cuore Sacro ed è bellissimo, tu sei stata stupenda e infatti hai vinto molti premi. Mi ha colpito una cosa del film, che c'è un vestito, il vestito rosa, che sta nell'armadio, viene usato per coprirsi, ma se non mi sbaglio è una collezione di Valentino ed è esposta in un museo, è vero? Oddio. Complimenti, complimenti. Io non so questa cosa, è vera questa cosa? È vera. Sì. È vera? Sì, adesso qualcosa mi sì sì, purtroppo. Quindi non so proprio, vedi queste sono le domande dei bambini. Io ho due figlie che pure ogni tanto però con loro insomma riesco abbastanza qui gestirmela, non saprei come rispondere, diciamo che mi ha stupito la domanda. Beh, questo di vostro però è una cosa importante, che io infatti ci voglio, io sono così affezionato a queste creaturine qua, perché sono non soltanto informate, anche più di me. No, che vanno oltre. Essere più informate di me è facile, però anche di tanti colleghi, perché vedi, sono straordinari. Allora, questo vestito che fine ha fatto? Complimentimi. Sta al museo. Eh, sta al museo, no? Giusto? No, perché l'altra stessa è che non l'ha indossato nessuno, era meraviglioso. Ma non l'ha indossato nessuno, stava solo nell'armadio, mi ricordo. Sì, sì, stava solo nell'armadio. Ma lei è la bimba, come lo ha detto. Ah, sì, 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 certo. Vedi come vedono i particolari? Particolari. Quindi di conseguenza non c'è, comunque non può essere proprio messo e indossato. Ah. E' stato usato per, no, è stato usato per il film e solo per... Ed è stato montato nel tratto finale. Ah, vedi? E' indossato dalla prima che poi la mamma, insomma. Quindi fa parte proprio della sceneggiatura? Sì, anzi. Della scenografia. Della scenografia, scusa. Del film. No, ma sembra anche una storia, perché forse è un modulo della madre, che è stata fatta dalla figlia, che lei era lì. Bene. Chi altro c'è? Prego. Prego. Grazie tante, grazie. Grazie. Ciao, Barbara. Barbara. No, Barbara. Scusa. Sono Antonella Silvestri. Chiariamo questa cosa. No, ma io però mi dispiace. Dimmi come si dice. Io mi sento sempre male quando la gente si sforza di pronunciare bene le parole. Perché capisco che, ormai ho capito che non è semplice dire Barbara. Sì, sì. Quindi io...